Trovare Saugella Acti 3? Mi sento protetta a lungo dai fastidi intimi. Se ci penso, il rispetto che ho per la diversità del nostro mondo è lo stesso che ho per me e per la mia intimità. Femminile, singolare. Saugella, consigliata dal cinecologo. Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di spagna. Kinder Pane Cioc. Cioc, si gioca! Da solo con selfie o con un family banker Mediolanum è come vuoi tu. Diventa cliente Mediolanum. Se accrediti lo stipendio, puoi avere il 2% anno. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Ci sono cose così speciali che non puoi tenere solo per te. Nutella Biscuits. Il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Una grande emozione nata per essere condivisa. Nutella Biscuits. Un cuore grande. Sì. Un cuore grande. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e vieni a tutti. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, e sempre è sempre, e sempre è sempre, e sempre è sempre. Amen. Nel primo mistero gaudioso, contempliamo l'Annunciazione dell'Angelo a Maria.